Il Paradiso, trame 1 e 4 dicembre, Vito vuole proporre a Puglisi di sposarlo. Nella puntata di Il Paradisi delle Signore, che andrà in onda su Rai 1 venerdì 1 e lunedì 4 dicembre, Vito vuole fare la proposta a Maria Puglisi e chiederà aiuto ai colleghi. Alfredo invece si convincerà che Leonardo Crespi sia interessato a Irene. Matilde si sente tradita da Vittorio e dal marito Tancredi. Nella puntata di venerdì 1 dicembre Irene apprende che Leonardo Crespi farà parte della commissione preposta all'assegnazione della massima onorificenza del capoluogo Lombardo. Nel frattempo, il padre di Agatha, Cairo, rimane colpito dal talento della figlia e decide di accettarla in un corso di pittura. Intanto Matilde apprenderà che Vittorio sa da tempo che Tancredi è stato la causa dell'incendio che ha distrutto il mobilificio di Frigerio, ed entrambi rimarranno delusi. Nella puntata in onda lunedì 4 dicembre, Vito decide di fare la proposta a Maria Puglisi. Matilde non perdonerà a Vittorio di aver tacciuto su Tancredi. Ha quindi intenzione di coinvolgere i suoi amici e colleghi del campo per ricevere assistenza e sostegno in questo importante passo. Allo stesso tempo, Agatha attende con ansia il suo primo giorno di lezione di disegno piena di entusiasmo e speranza per il suo futuro artistico. Intanto Matilde Frigerio si rifiuterà di perdonare sia Vittorio Conti che il marito Tancredi di Santerasmo, ma utilizzerà tutti i mezzi possibili per riconquistarla, nonostante le difficoltà. Alla fine, Alfredo diventa sempre più preoccupato e diffidente nei confronti della sua ragazza Irene e si convince che Leonardo Crespi abbia un interesse speciale per lei. Riassunto degli episodi precedenti del Paradiso nella puntata del Paradisi delle Signore, che andrà in onda giovedì 30 novembre. Irene è preoccupata per l'esito del concorso per il miglior lavoro a Milano, ma i suoi amici Veneri e Alfredo esitano, la sostengo senza alcuna esitazione. Allo stesso tempo, Armando si rende conto che tra Matteo e Maria c'è qualcosa di più profondo della semplice amicizia. Alla fine Matilde risulta ancora scomparsa dalla villa e Tancredi decide di fare visita a Vittorio per sapere se c'entra lui qualcosa.